Siamo tornati! Eccoci! Bene ragazzi, questo è il mio bentornato in questo nuovissimo video dello step versus food! Siamo in compagnia dei miei, ciao ragazzi, l'ultimo video ha fatto veramente schifo, schifo, perché ha caduto un po' di roba dalla bocca. Che cheat! Oggi, per il video dello step versus food, mangeremo qualcosa di estivo, quindi un bel celato gigante! Non puoi, sei totalmente adattoso! Ragazzi, sai che decidi nei commenti? Prima cosa, ragazzi, avete lasciato 120 mila like, rifate un nuovo like, un nuovo step versus food! No, no, no! Scrivete nei commenti... 200 mila, se no! Eh, scrivete nei commenti il prossimo cibo, vi leggo i commenti, li ho letti alcuni, sono un po' cattivi, Stefano, ti vogliono male! Allora, questo mi piace, uno dei più votati è devi superare il record delle pizze napoletane! Ma se non posso mangiare la mozzarella? Per quella sera strappiamo la record! Allora, erano tre, la prossima volta sarà quattro, però adesso fare delle pizze in questo momento e poi non siamo a Napoli! 50 paltine grandi del McDonald's, poi abbiamo... 50! Ma chi lo scrive ne mangia almeno tre? Questa mi piace! Vai! Perché è un prodotto piccolo, sono tanti però! 200 mi cado! Sì, mi cado! Allora, no, mi cado sì! Vai, su reverse food, 200 mi cado! 25 peperoncini? 25 peperoncini? Secondo me ce la farei sì! Perché anche le fiamme! Però aspetta, però vado all'ospedale! Ma cosa sta dicendo? Però aspetta, prima da culo... Eccola! Due chili di frutta! Va bene, è andata! O 50 banane? Eeeh! 50 banane! Allora, secondo me la frutta ci può stare! Due chili è andata! Due chili sono pochi, bello! Due chili! Sì, sì, ma non più di 5 chili! Voglio uno spicchio della mia pesca! A posto! Due cestini di albicocchi! Eeeh! Le fragole! Due scatoline di fragole! Ma cosa ha due scatoline di fragole? Le cittaglio! Mangio tre capi d'aglio e siamo a posto, va bene? Sì, che non vedi la Sofia per due anni! Allora, qualcosa che non deve essere sbucciato! Ragazzi, tutto! 5 meloni, anche se è sbucciabile! No, ho detto che non deve essere sbucciato! Che viziatino! È proprio un viziatino, ragazzi! Se deve essere sbucciato, cioè spreco! Noi non vogliamo sprecare niente! Ah, quindi ha detto bene! Ha detto che quindi... Il peso deve essere buono! Perfetto! L'uva! L'uva! Devo assaggiarla! È buona! No! È buona! Mi riempie troppo! Ma è buona! No, devi stare calmo! Sto facendo una valutazione sul peso! Quanto è? Adia! 6,5 kg! 2! Fai 2! No, ragazzi! No, ragazzi! No, ragazzi! No, ragazzi! No! 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 Vabbè, son 4000 calorie! Beh, è lì! 4000 calorie, son 6 kg di frutta! L'altra volta hai fatto 4500 calorie! Ce la puoi fare? Ce la puoi fare, eh! Sì, ma 4500 era... Ah, mangiavo i Big Mac! Erano buoni! Adesso... Ma la frutta fa bene! Ma fa le gonfie! Ma fa le gonfie! Ma 5 kg! Ma 5 kg! Ma 6 kg! Sei pronto? Che la sfida abbia inizio Non scutare in goia Non puoi La tecnica di mangiare tutti si chicchia alla volta non sono andato d'accordo eh Non vorrei dire Ma cosa cambia? La pancia è quella con ossenza La tecnica del vinello Porca è ma non c'è la chicchia Allora ti ricordi che in ogni video che stai perso tu facciamo un piccolo record Per la sfida di oggi è quanti ne riesci a mettere in bocca Ciabbi banni con l'uva Vai Uno Due L'uva banni, l'uva banni Ah no l'uva pasta Sei Se invece si vengono potrebbe essere una cinquantina No Ma te non hai senso del limite 8 No 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 Che schifo 8 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 9 10 10 10 11 11 12 12 11 12 13 13 15 14 15 15 15 15 di Big Mac, vedi otto avversari diversi, qui vedi il boss finale. Devi caricare, allora lui ti carica di più. Stai caricando la bocca. Passati in piedi, mangia così. Mi ha anche un uomo di piacere. Allora, c'è un grappolo. Due. Questo è il problema, questo è proprio un pesantino, eh. Ma metà è andata, dai metà ti manca, dai Stefano, dai su. Adesso inizia la sfida. Se io non ci credevo all'inizio, ora come faccio? Posso avere una bilancia per sapere quanto sono? Mi aiuta? Stascia lo fa calcolare lui. Allora dai, Stascia più o meno. Così sembrano tantissimi. Così mi tocca a tutti. Non è venuto a col***o un secondo della mia vita? Io non avevo pensato a quello, avevo pensato a Manny Spurk. Posso chiederti di cambiare il sapore? Le patatine. Le oliva. Che può mangiare? Che può mangiare le patatine? E basta. No, ancora. Dai uomo mi vado a lavar le mani e voglio usare a metà con la tua. Ma ora sei lava? Potevi lavarne prima? Però ho chiesto tutto, cado bottiglie di vino. Zio, ho io l'idea. Come ti ho detto all'inizio. Allora io ti concedo che se vuoi mi lavo i piedi, te la calpesto e la bevi. Mi vado a lavare i piedi e la ciucci. Zio, fidati. Dopo questa è la ciancia. Lo facciamo vincere a Stefano, fidatevi. Sai guarda, se vedi che c'è delle unghie colorate è colpa di Sabrina, eh. Oh, è congelata. No, no, è bucato, ti prego, no, ti prego. Dai, raga. Arcatini. Che cosa è successo? Che sei bucato. Ma no. Allora? Sono bloccato. Io sono pronto, se vuoi, per la vigna. Ti aspetta. C'è sto cosino con il nero in cima? Ma nulla, cos'è? Cos'è se si sa, c'ha un pochino di lì. Il massimo di può far scrivere il mio callo qua dietro. Non puzzano allora, giudice per piacere. Allora, non salio da un puzzalo. Questo un po' di più. Poi lo ricciacquo ancora. Ma perché c'è Stefano? Ma è bruttissima questa scena, figa, glielo puoi dire? Ma quanto è bella sta sancia così con i piedi davanti a Stefano? Che c***o state facendo? Mi sta sciogliendo i piedi. Ma Stefano lo sta mangiando. Ho scoperto le ragazze 5 e 6. Scusate che devo passare per pulire. Questo video è una merda, ragazzi. Ma lei cerca perché voglio fare il video da solo. Cerca di migliorare una merda adesso, vabbè. Ragazzi, sono 200 chicchi rimasti che sarebbero più o meno un chilo e due. Ma bello di più quanto zucchero? Tanto comunque. Mezzo chilo. Quindi sono tipo 800 grammi di zucchero. Oh, bello. Ragazzi, questa sfida è lo star versus food. È persa. Non decideranno mai più loro. Ma perché se noi decidiamo 2 kg, vedi, facevi easy, invece è potente. Era un bel video. Guarda cosa è successo. Guarda, guardate. Polliciate, arrivano 200 mila, mi piace. Io vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Qua da sempre è tutto. Vai piccà. Ciao. Hai rotto la bocca. Piano, sa, piano. Io ho capito a peso, eh. Vuoi? Questo è il cavallo. No, che schifo. Allora, salute. Mi è stato lì. Questo è tipo, sta scelta. Tu, cucciolare. Ragazzi, lui è in coma. Ragazzi, che ti cucciolo? Ti dico che questo è il migliore, perché lui ha bevuto dalla bolsa. Sono disposto a mangiare un Big Mac. Assaggia. Non pensare, non pensare. L'ho bevuto anch'io, non è, è vuoto. Non pensare. È tipo succo d'uva. Non guardare, non pensare. È succo d'uva. Sì, è succo d'uva, è stata di uva. Non sa di più. Non guardare. Di cosa sta? Dai. Di cosa deve sapere. È succo d'uva? Sì. È come mezzo a bowl. Finisci, Giuseppe, finiscilo. Giù. Cavallo. Ma ti prendo io, picca, tranquillo. Dai, alla salute. Cavallo. Ragazzi, chi sta nel team mates è sempre nel team mates. Sì. Allaג哈 permea la volta. Allaimana risonazione? Giuseppe, chi è tipico. Ogni. Grazie. Di�러.